Che l'uomo sia la migliore, la più sviluppata e complessa fra tutte le specie viventi, è qualcosa di cui tutti noi uomini siamo fortemente convinti. Nessun uomo penserebbe mai di essere peggio di un qualsiasi altro essere vivente, peggio di un maiale, di un verme, di una felce o di un fungo. È inconcepibile immaginare che un'altra specie vivente possa essere migliore di noi. Ma da cosa deriva questa convinzione? Noi siamo in grado di scrivere la Divina Commedia, il Don Quixote, di dipingere la Cappella Sistina, di immaginare la teoria della relatività o di discutere sulla superiorità delle specie. Il nostro cervello ci permette di fare cose che nessun altro essere vivente sarebbe mai in grado di produrre neanche in un milione di anni. È sulla capacità di utilizzare il nostro cervello che si bassa la convinzione di presunta superiorità. Alla fine, se non avessimo questo grosso cervello, saremmo una specie come tutte le altre. È questo ciò che pensiamo. E allora dobbiamo chiederci, avere questo grosso cervello ci rende davvero migliori degli altri esseri viventi? O, in altri termini, avere un cervello come il nostro è un vantaggio evolutivo o piuttosto uno svantaggio? Per chiarire la questione, dobbiamo prima precisare cosa si intenda con il termine migliore. L'idea di meglio sottintende che ci sia un obiettivo da raggiungere e che sia possibile misurare l'efficacia con la quale si raggiunge l'obiettivo. Ad esempio, in una gara di salto in alto, l'obiettivo è saltare più in alto degli altri concorrenti. Chi salta più in alto è meglio degli altri. Semplice e senza discussione. C'è un obiettivo, saltare più in alto, e c'è la possibilità di misurare il risultato finale. Ma nella vita, qual è l'obiettivo principale? Quello che sta prima di ogni altro possibile obiettivo? L'obiettivo primo? Quello da cui tutti gli altri non sono altro che dei corollari? Niente di difficile da comprendere. Il primo vero immancabile obiettivo per qualunque essere vivente, uomini ovviamente inclusi, è la sopravvivenza della specie. Il motivo è ovvio. Se la specie non sopravvive, ogni altro obiettivo diventa irrilevante. Se ci estinguessimo domani, a chi potrebbe mai interessare se abbiamo scritto la Divina Commedia, il Don Quixote, eccetera, a nessuno. Primum vivere. Ora che conosciamo l'obiettivo, chiediamoci come siamo messi in questa gara per la sopravvivenza della specie e che risultati hanno raggiunto le altre specie. Come un saltatore che si appresta a partecipare ad una gara di salto in alto e si informa su quale è l'altezza media che gli altri saltatori sono in grado di raggiungere, così dobbiamo chiederci quanto sopravvive in media una specie? Ebbene, la vita media delle specie è stimata essere intorno ai 5 milioni di anni. In media, da quando una specie appare a quando si estingue, passano 5 milioni di anni. Una bella cifra. Ora, poiché l'Homo sapiens esiste da soli 300.000 anni, ci dovremmo attendere che anche senza essere meglio delle altre specie viventi, ma rimanendo nella media perfetta, ci dovrebbero toccare ancora 4 milioni e 700 mila anni di vita. Sarà vero? Ce la farà l'uomo ad arrivare alla vita media? Se ricordiamo che tutto quello che abbiamo combinato lo abbiamo fatto nel bene e nel male negli ultimi 15.000 anni, ecco che la prospettiva di vivere ancora per oltre 4 milioni e mezzi di anni appare alquanto incerta. La maggior parte di noi non scommetterebbe su altri 10.000 anni, altro che 4 milioni e mezzo. Io non so se la nostra specie arriverà alla vita media o se magari riuscirà a vivere ancora di più. Ovviamente me lo auguro. Tuttavia, prima di dichiararci meglio, pensiamo a sopravvivere altri 4 milioni e 700 mila anni. Quando li avremo superati, potremo dire di essere meglio della media. Prima potremo rischiare una figuraccia. Grazie. 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 Grazie.